Musica Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa in questo martedì 24 settembre. Come di consueto siamo pronti per andare a leggere i quotidiani partendo dalle prime pagine e iniziando ovviamente dai giornali di Casanosa per passare poi alle testate nazionali e a quelle sportive. Allora cominciamo le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, partiamo con quella di Pescara che apre con un nuovo piano per il commercio e infatti il Comune lavora sugli eventi invernali. Domani il primo confronto in alto, box che riguarda politica internazionale, il summit alla Valletta, migranti, patto tra UE e Malta. L'Amorgese, nuovo ministro dell'Interno, non siamo più soli, dice il nuovo capo del Viminale. Nella fotonotizia l'inserto speciale, nuovi postini in Abruzzo, maxiselezione e stipendio da 1100 euro. Ma andiamo a vedere quello che vede il panorama politico abruzzese. Referendum e scontro tra Lega e Forza Italia, oggi il Consiglio, la minaccia leghista, pronti a dimetterci queste le parole del partito di Matteo Salvini. In basso, sentenza pilota, medicina, trasferimento senza test, il Tar dice sì. E poi, notizie prevalentemente di cronaca, sotto la fotonotizia andiamo a Pianella, grave un 19enne dopo lo schianto era la guida di un'auto che si è scontrata con un furgone, adesso è in rianimazione. Andiamo nelle cronache di spalla, siamo sempre a Pescara, il depuratore è pronto nel 2021, così il mare sarà più pulito. Sempre a Pescara un ragazzino minacciato con il coltello per strada, ad Atessa, pipì negata a un operaio e allora la Sevel viene condannata. In basso lo sport perché oggi è anche il giorno del turno infrasettimanale in Serie B, allora questa sera scende in campo il Pescara al Piercesare Tombolato di Cittadella, scocca l'ora di maniero. Zauri a Cittadella pronto a lanciare l'attaccante dall'inizio, oggi turno infrasettimanale ore 21, allora in approfitto per ricordarvi ovviamente oltre agli appuntamenti con il nostro telegiornale, questa sera a partire dalle 20.30 noi come sempre seguiremo la partita dei Biancoazzurri con Andrea Costantini in studio, con Paolo Renzetti proprio dal Piercesare Tombolato di Cittadella, ovviamente sperando che sia una bella serata per il Pescara, reduce dal pareggio 1-1 di sabato pomeriggio contro la Virtus Entella. Dunque questa sera diretta stadio a partire dalle 20.30. Cambiamo adesso, sempre edizione del centro, ma quella di, andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto, apre con la sanità, lista di attesa più personale alla ASL, Chieti, disco verde della regione, arrivano 598 assunzioni in tre anni. Vediamo che cosa cambia rispetto all'edizione di Pescara. Allora, innanzitutto la notizia sotto la foto, aereo caduto, indagato il pilota, inchiesta sull'incidente a Orsogna, dimesso l'aviatore, la moglie resta ricoverata. E poi nelle cronache di spalla, siamo a Lanciano, botte e minacce, il capo della banda è ancora sotto accusa, la banda quella che fece l'assalto nella villa dei coniugi in Martelli. a Chieti, buche e tommini otturati, proteste in via dei Platani a Vasto, campi distrutti dai cinghiali agricoltori che sono in ginocchio. E qui in basso ritroviamo la sentenza che riguarda la Sevel di Atessa, con un operaio che se la fece addosso in fabbrica e ottiene come risarcimento 5.000 euro. Cambiamo ancora edizione, andiamo sull'edizione di Teramo del Centro Aiuti al Terrorismo. Tutti scarcerati, l'inchiesta in Val Vibrata, il giudice accoglie ricorsi degli islamici arrestati. Anche qui vediamo che cosa cambia rispetto alle altre edizioni. Per esempio, anche qui la notizia sotto la foto, commissariato il Partito Democratico Provinciale, a Teramo arriva l'Aquilano Di Stefano dopo la guerra intestina tra i democratici. Nelle cronache, siamo sempre a Teramo, finge di essere un altro condannato a due mesi. A Tortoreto arrivano le colonnine per le auto elettriche, poi a Roseto incassati 315.000 euro derivanti dalla tassa di soggiorno. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella di l'Aquila Avezzano Sulmona. L'apertura, Marsiglio e Biondi, tasse non mogliamo, l'Aquila, governatore e sindaco chiedono a Conte di intervenire sull'Unione Europea. Sotto la foto, anche qui, riaperto il chiosco dopo l'attentato, ce l'hanno inaugurata la rivendita di fiori delle sorelle di Ovidio, era stata incendiata. Vediamo nelle cronache all'Aquila, nove martiri, la prima volta del sindaco alla cerimonia. La prima volta del sindaco che Biondi ha partecipato alla cerimonia. Ad Avezzano, caos di auto davanti alle scuole e sono pochi i vigili. A Pescassero, lì, parco Cucciolo di Orso Bruno, ritrova, per fortuna, buona notizia, la mamma. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul messaggero, ovviamente la prima pagina che riguarda la nostra regione, giù l'ecomostro della riviera, questa è l'apertura, il comune del capologo adriatico ordina la demolizione dello scheletro di cemento costruito dalla società Michelangelo, è stato al centro di dieci anni di battaglie giudiziarie. Sotto la testata, andiamo a vedere, orecchio mozzato a Niva Bazzan, in un'indagine bis, anche l'estorsione, siamo a Lanciano Parco, Orsi, il cucciolo smarrito è ritornato dalla mamma, e lo vedete in questa foto. Teramo sposato, mente all'amante e sostituzione di persone. La notizia che abbiamo letto prima, l'uomo è stato sanzionato, con due mesi di reclusione, appena sospesa si sarebbe fatto pagare ogni cosa dalla nuova commivente, che però era ignara di tutto. Di spalla, in Senato il ricordo dell'avvocato di Matteotti Pasquale Gagliano Magno, tutelò la vedova del politico trucidato. E poi la foto, questa sera alle 21 con il Cittadella per il Pescara, tabù da sfatare, Biancazzurri che sono stati sconfitti nelle ultime quattro gare. E Zauri si affida non solo a lui, ma al giocatore che vedete nella foto, Cristian Galano. Vediamo il box, innovazione, profumo, siete un partner per noi affidabile, così il presidente di Leonardo Alessandro Profumo. Cronaca, braccio amputato alla paziente, mezzo milione di risarcimento, ortopedico e casa di cura sono condannati dal giudice del Tribunale Civile. Un altro box, indifesi, minaccia una quattordicenne con un coltello e scatta l'arresto. All'Aquila appaltì sotto inchiesta le carte che accusano in basso percussionisti del mondo che sono a Montesilvano che a settembre continua ad ospitare degli eventi, in questo caso di musica. Rimaniamo in provincia di Teramo, andando a vedere la prima pagina del quotidiano La Città, questa è l'apertura, ecco perché la ASL frena sul project, tante richieste d'accesso agli atti, ma in ballo c'è una società privata, è chiesto un parere all'ANAC, Associazione Nazionale Anticorruzione. In alto lo spoil system in regione travolge anche il Corecom, decaduto anche il terramano Filippo Lucci. Per la politica, PD commissariato, via Minosse, al suo posto arriva un aquilano che abbiamo visto di Stefano. A centro pagina, la foto demolito il fortino, siamo a Silvi, costruito per la guerra mondiale, era diventato un simbolo. Per la sanità, ospedale nuovo di Giosia cede l'incarico di RUP ad un suo vice, sempre per la sanità, attesi in 4.000 per il concorso al Palas Capriano. Dall'altra parte, ricostruzione, Italgas dona 140 computer alle scuole di Civitella. A Colleranesco, lavori ripresi, ma slitta ancora la riapertura della scuola. Sotto la foto, vagava a piedi sulla corsia di sorpasso una ragazza, salvata da un finanziere, eroe lungo la A14. Altri box, quelli che troviamo in basso, a Roseto, confermato lo spostamento del mercato. E poi in Serie C, diavolo subito la Viterbese per scordare il pareggio di Vibo Valencia. Anche in questo caso domani ci sarà il turno infrasettimanale in Serie C, con il Teramo che scenderà in campo al Bonolis domani pomeriggio contro la Viterbese. Ed ecco perché la trasmissione Proteramo trasla di un giorno, slitta di un giorno, e ci sarà domani sera, sempre alle ore 21. Andiamo adesso sulle prime pagine nazionali, a vedere quali sono le notizie dall'Italia e dal mondo. Il Corriere della Sera, con la solita doppia apertura, vediamo questa di centropagina, migranti, primo patto europeo, sia le richieste italiane su porti e rimpatini, ma Salvini dice, è una solenne fregatura, il ministro dell'interno Lamorgese, non siamo più soli chi sbarca qui, sbarca in Europa, conte un passo avanti, storico. Poi in alto la grande foto dedicata a Greta Thunberg, Greta all'ONU, avete robato i miei sogni, come osate, clima e il piano di 66 paesi sulle emissioni. E poi una notizia fallita, l'agenzia Thomas Cook, 600 mila turisti restano a terra. Questo è il Corriere della Sera. La Repubblica, l'Europa sedesta, patto sui migranti, Italia e Malta, firmano un accordo con Francia e Germania per la redistribuzione automatica dei richiedenti asilo. Si punta ad allargarlo ad altri paesi, il trasferimento vale solo per chi viene soccorso in mare, in mare non per chi sbarca sulla costa. Di Maio, attenti a non provocare un'ondata di partenze. Conte, essere costruttivi porta risultati, saremo rigorosi con le ONG. E poi, anche qui, l'intervento di Greta Thunberg. Non vi perdoneremo mai, ci avete rubato i sogni. La rabbia della leader ecologista al vertice ONU. Trump arriva a sorpresa, resta solo un quarto d'ora. In 600 mila terra fallisce la Cook travolta da Internet e anche dalla Brexit. Il fatto quotidiano, abbiamo fatto più a Malta in un giorno, di Salvini in un anno. Patto UE sui migranti, parla Conte, svolta storica su ricollocamenti UE e i porti sicuri. Non saranno più solo italiani, le ONG siano trasparenti. I salvataggi non competono a loro. Queste sono le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In alto, Caso Rubli, Blitz, DPM, Alleni, a caccia di carte su Savoini e Company. Acquisiti documenti sui conti del gruppo petrolifero. Caso Montante, Roma ha indagato il neocuestore. Una fuga di notizie. E poi, in basso, dopo il duello Nixon-Kennedy, l'eroico capitano dalla D'Urso, scontri fra titani. Il temerario sfida 5 VIP. Il mattino, il compromesso sui migranti a Malta, intesa tra Italia, Germania, Francia e Finlandia, ridistribuiti solo i salvati da ONG e militari. Non indicate le sanzioni per chi rifiuta. La Morgese, non siamo più soli. Di Maio, fermare le partenze. E poi, a centro pagina, i Cantieri Eterni di Napoli dal 2016. Visto che siamo sul mattino, ovviamente, si parla soprattutto di Napoli. Dal 2016, rinvii per 8 anni. Lavori in 36 mesi, concessi 2888 giorni di proroga dal centro alla periferia ai cittadini schiavi del caos. Il manifesto non è aria. Titolo, se vogliamo, geniale. Al summit dell'ONU sul clima, pochi impegni e vaghe promesse, nonostante le preghiere del segretario generale Gutierrez. Solo 68 paesi promettono di migliorare l'accordo di Parigi sulle emissioni di gas sera. La Russia si adegua a COP21. La ringa di Greta sta derubando i nostri sogni. Greenpeace, vertice deludente. Migranti a Malta ha raggiunto un mezzo accordo, confermata la collaborazione con la Libia. E poi, per la politica, a 30 anni dalla Bolognina, la svolta di Zingaretti. Un manifesto per un nuovo partito democratico. Il messaggero, ovviamente la prima pagina nazionale. Migranti, un'intesa a metà. A Malta, accordo con Italia, Francia, Germania e Finlandia. La Morgese, da oggi non più soli, redistribuiti solo i salvati da ONG e militari. Di Maio non basta senza rimpatri. Salvini attacca. A centropagina, in piazza per il clima, assenti giustificati. Pattonu per tagliare le emissioni. Trump e Greta si sfiorano. E poi, le ronde degli autisti sui bus della capitale. Ci difendiamo da soli. Cartelli nei depositi ATAC dopo gli ultimi assalti ai conducenti di notte. Volontari di scorta. Libero. Più ne salviamo e più ne muoiono. I soccorsi incoraggiano le partenze. Quando il PD aveva aperto le porte all'invasione, sono annegati quasi 15.000 migranti. Con la cura Salvini sono scesi a quota 1.000. L'unico modo per aiutare gli africani è non farli venire altri 200 clandestini in arrivo. E la OE approva l'incentivo allo sbarco. La doppia foto con due ministri. Quello dell'istituzione Fioramonti da bocciare. Se bigi la scuola per il clima, il ministro del Movimento 5 Stelle ti giustifica. E poi Di Maio, Gigi Novo, fa l'americano, però non sa parlare inglese. Turismo aeronautico per il neo ministro degli esteri Luigi Di Maio. Il sole 24 ore. Dalla manovra mini spinta aggiuntiva al PIL dello 0,3%. Questo è l'aggiornamento al DEF. L'effetto arriva dallo stop all'aumento dell'IVA che assorbe il 65% della legge di bilancio. La foto. Tav Torino-Leone concluso. Lo scavo dei primi 9 chilometri. Ecco la foto. L'opera avanza sul versante francese. Clima. Le imprese chiedono fatti. Energy Summit. La soddisfazione. Ma anche cautela sul Green Deal proposto dal governo. La frenata tedesca colpisce l'export dei distretti industriali. Made in Italy. Lecco Brescia e Bergamo. Le aree più penalizzate dal rallentamento. L'effetto auto vale il meno 34,7%. Ovviamente un effetto che si ripercuote sulla meccanica. Riorganizzazioni aziendali. Regole fiscali all'esame della consulta. Il tempo stangata sui poveracci per fare cassa. IVA che fregatura. Il governo è nato per impedire l'aumento di quella tassa. Invece la alzerà. Colpiti i generi alimentari dal 4 all'8%. E beni di largo consumo. Una rapina da 5 miliardi. Saltare la scuola per il clima si può. Qualcuno fermi Greto Fioramonti. E poi sotto a chi tocca. Siamo al comune di Roma. Virginia fa fuori altri 4 assessori. 15 cambi in 2 anni e mezzo. In basso. Trovati milioni di fondi neri. Trema la Roma bene. La stampa. Che apre proprio con la questione clima. Clima all'urlo di Greta scuote l'ONU. Mi avete rubato i sogni e l'infanzia. Intesa tra 59 paesi. Ridurre le emissioni del 45% entro il 2030. Intervista al ministro Fioramonti. Ecologia e ambiente. Materie scolastiche. Dal prossimo anno. Thomas Cook fa bancarotta a Ponte Aereo per riportare a casa. 600 mila turisti. Migranti. Conte contro l'ONG. La legge vale anche per loro. Intesa a Malta. Colloquio con il Premier. E poi. Il secolo. Punto IT. Assassini di strada. Comunismo sanguinario per l'Europa. Mentre in Italia la toponomastica ne esalta ancora i leader più feroci. In primo piano. Mi aspetto. Invito dal PD. Meloni. Accordo. Ok. Accordo. PD. Movimento 5 Stelle. Conte. Resuscita. La CGL. Che abbraccio con Landini. Giordano Bruno Guerri. Severo. Antifascismo. Pericoloso. La Veritali. Inchiesta sulla cassaforte di Renzi. Arrivata alla lobby di Babbo Tiziano. Il doppio traffico di influenze. Nell'indagine sul gruppo Toto. E' stata perquisita la sede di Reti. Società di lobbying. A cui si appoggiavano il comunicatore della Leopolda Donnini. Il papà dell'ex Premier. E il cognato Andrea Conticini. E dalla finanza giungono nove carte. Conte sta bene con tutto. Perfino con Forza Italia. E poi Fregatura Migranti. Si chiama Rotazione. Vertice UE di Malta. Partorisce un accordo volontario sugli approdi. Intanto legittima tutti gli arrivi con le ONG. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi. Perché sarà anche in questo caso una settimana con il turno infrasettimanale in Serie A. Ma per esempio questa sera c'è Brescia Juventus e torna Balotelli di nuovo in balo. Da oggi subito in campo in Brescia Juve ore 21. Il campionato riabbraccia un suo talento. Mario si gioca la sua settima vita a 600 metri da casa e all'ultima chiamata per ritrovare se stesso in Italia. Sarri senza Cristiano Ronaldo. K.O. si affida a Di Bala e Higuain. E poi questa notizia che è statistica. Mai così tanti gol non si segnava così dal 50-51. Tutti all'attacco. 123 reti nelle prime quattro giornate. Una rivoluzione. La Serie A diventa ancora più appassionante. Accanto Giulio Cesar lancia Conte un Inter da Scudetto. Milan Gianpaolo ci ripensa. Benasser torna titolare. Vedremo se sarà così. In alto intanto Messi. CR7. Veleno alla scala. Milano premiati campioni del calcio. L'argentino incoronato. E Ronaldo non si presenta. La FIFA furiosa. Chiama i top 11 sul palco e lo ignora. Grido d'allarme da Infantino a Mancini. Il razzismo in Italia è un caso mondiale. In alto altre notizie. Le leggiamo. Piloti. Motori e novità. La Ferrari per il 2020 parte già in vantaggio dopo la terza vittoria consecutiva. E poi Tiberi. Crono da matti. Gli si rompe la bici. Poi scatta verso l'oro in presa. Nella cronometro. Tra lì Juniores. Bravissimo. Antonio Tiberi. Neocampione del mondo. Juniores. E poi basket. La Serie A. Al Via. Nuove big classiche. Milano è in pole position. Cambiamo quotidiano. Andiamo sul Corriere dello Sport. CR salta e debutta. Balotelli ha affaticamento muscolare per Ronaldo. Sarri lo lascia a casa. Cristiano che sui social polemizza con la FIFA per il premio a Messi. Niente sfida con Balotelli che torna in A dopo tre anni. Nelle altre notizie. Razzismo. L'UEFA chiude le porte. Euro 2020. Romania, Slovacchia, Ungheria senza tifosi. Ulurati contro Dalbert. Adesso indaga anche la Digos. Inter e Conte da record. Domani la Lazio San Siro. Antonio cerca la quinta perla. Il caso immobile. Ciro la multa, poi la pace. Chiuso il caso dopo la sostituzione presa malissimo dall'attaccante. Fiorentina a tutto liberi. Il francese al top in basso. Così la Ferrari ha preso il volo. Chiudiamo con tutto sport. Tonali esame di Juve. Stasera a Brescia e Bianconeri cercano il momentaneo sorpasso sull'Inter. Studiano il giovane talento di Cellino. Senza CR7, Ramsey trequartista alle spalle di Higuain e Dybala. Toro sveglia. Vietato sbagliare di nuovo la squadra di Mazzari. Deve rispondere alla delusione dei tifosi dopo due sconfitte di fila. Ronaldo schiaffa alla FIFA. Non va alla scala per protesta. Di solito lo fa quando i premi non li prende. Contro infatti il mancato premio. Messi the best CR7 furioso. Chiudiamo qui questa prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso le previsioni del tempo, la pubblicità e poi torniamo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6 che riprendiamo, ricominciando a sfogliare i giornali. Abbiamo visto le prime pagine, adesso entriamo al loro interno. Ripartiamo dunque dai giornali di casa nostra partendo dalla politica e dalla pagina Abruzzo del centro. referendum, Forza Italia sfida la Lega, la maggioranza si spacca. I consiglieri berusconiani non voteranno sì e si asterranno, ma il carroccio è pronto a reagire facendo rappresaglia politica. L'Itea anche sulla sigaretta elettronica. Fratelli d'Italia presenta una legge sulla maggiore diffusione, ma 14 sigle mediche le bocciano. In basso il calendario venatorio caccia, tra 24 ore il Tar decide. Ma le questioni che riguardano la maggioranza regionale sono anche l'apertura del messaggero. Ecco qua, maggioranza senza UDC, test su agricoltura e saga, appoggio esterno dei centrisi, si va in aula. Osservata speciale la consigliera Scoccia, altro rebus, l'effetto della nascita Italia viva, anche se al momento i renziani sono silenziosi. Questi sono gli assetti della regione. In basso il referendum, attenzione Forza Italia Lega e Mascitelli fa ricorso al giudice. Cominciamo dunque andando a Pescara, sempre rimanendo sul messaggero, pagina 36. Giule Comostro della Riviera avvia la demolizione. Da lunedì prossimo i lavori di abbattimento del Palazzo di Sette Piani. Maxi di vieto di sosta nell'area circostante di Spalla. Parla Mancini la verità del manager licenziato. E poi, a ritardi dopo la grandinata, cantiere Lumaca alle case popolari. In basso, 100 storie vincenti di innovazione e profumo promuove il sistema Abruzzo. La D di Leonardo tiene a battesimo lo studio di simbola e annuncia i successi del polo aquilano, proprio di Leonardo. Sempre a Pescara, braccio amputato, maxi risarcimento, il calvario di una paziente dopo una serie di interventi chirurgici si conclude con una condanna civile della clinica e di un ortopedico. La casa di cura Pierangelo e lo specialista Giovanni Di Gianni dovranno versare circa mezzo milione ad una donna pescarese. E poi, la cronaca, guardie ladri, recuperate due biciclette rubate, i proprietari attesi in questura. Panico al supermercato, minaccia con un coltello. Un ragazzino, ragazzo gravissimo, dopo il frontale con un autocarro. Lo scontro nella notte nei pressi di Pianella, Simone Settimio era alla guida della sua Hyundai, è ricoverato in rianimazione. E poi, altre notizie, Montesilvano falciato sulle strisce, oggi l'autopsia di spalla. Finanziere ero e salvo una donna che vagava sull'autostrada. E poi questa notizia che ci riguarda da vicino, brutte notizie, l'Enel non avvisa, ieri è saltato il nostro telegiornale e siamo rimasti assolutamente al buio. In basso, malore fatale, ricercatrice morta in Scozia, domani la cerimonia funebre, operaio travolto dai cartoni, nuovo incidente alla Ico. In basso, tamburi, timpani e marimbe, che musica, siamo a Montesilvano, l'estate sta finendo, ma non per la città adriatica. Qui siamo all'Aquila, però intanto vediamo le pagine di Pescara sul centro, i progetti della stagione invernale, commerci in crisi. L'assessore chiama a raccolta i negozianti, i rappresentanti delle associazioni di categoria, invitati a partecipare alla commissione di domani. Tra i punti da affrontare, il calendario degli eventi natalizi e in centro spuntano nuove attività. In piazza Salotto si prepara ad aprire la casa degli arrosticini. Nuovo depuratore pronto nel 2021, così il mare non sarà più inquinato. L'opera da 20 milioni, sopra il luogo della commissione per verificare lo stato dei lavori per le vasche di prima pioggia. Il presidente Petrelli, l'intervento procede speditamente, sarà completato. Prima di due anni riviera, in un tratto torna il divieto, è stato ripristinato all'altezza di via Galilei, a scopo precauzionale dopo la pioggia. Intanto è ripartito anche il dragaggio del porto, lavori lungo il canale. Comune, i dipendenti sono senza contratto, siamo sempre a Pescara. Protesta dei sindacati, la CISL e il CSA sul piede di guerra. Si preparano lo scontro, trattative bloccate. L'ente non rispetto agli impegni presi. Case di fontanelle, operai a lavoro per riparare i tetti. Minaccia con un coltello, un ragazzino. Via Nazionale dell'Atletica Nord, l'uomo è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Aveva addosso 27 grammi di eroina. A centropagina, cerimonia per salvo d'acquisto nella piazza dedicata al vicebrigadiere, carabinieri, amministratori e studenti. La scienziata pescarese è morta, borsa di studio in suo nome, Stefania Spanò, domani la cerimonia laica. E la questione naia di rientro in vasca dopo cinque mesi. Ieri le squadre di pallanuoto, lunedì la riapertura al pubblico. Viaggio all'interno dell'Aurum, nell'archivio di Stato, dove è custodita la memoria di Pescara. L'apertura straordinaria di sabato ha svelato alla città gli atti di nascita di Danunzi e Flaiano, una pergamena del 600. Due brevetti di Dascanio e antichi documenti. Ecco come visionarli e ci sono le regole per andare a visitare questi documenti molto molto belli e importanti. Ma per il 2020 incombe il rischio chiusura. I 30 dipendenti degli anni 90 sono scesi a 10 e a fine anno dimezzeranno per i pensionamenti. Montesilvano, cattivi odori e i ritardi. Il distretto Asl non decolla. Inaugurata sotto elezioni la struttura a disporare di tutti i servizi solo nel 2020. L'ex manager, nuove indagini per capire da dove provengono i miasmi. Il progetto sempre a Montesilvano. Parnelli al posto delle siepi contro la sabbia sulla riviera. Incidente a Pianella, schianto contro il furgone grave un 19enne. Il giovane alla guida di una Hyundai è stato ricoverato in rianimazione a Pescara. Lo scontro a poca distanza da casa. E' un incidente anche sul lavoro a Pianella in ospedale, operaio travolto dai bancali. A piedi sulla A14, salvata da un finanziere, Città Sant'Angelo. Il gesto eroico di un militare fuori servizio che sfrecciava sulle corsie. E' annotato, insomma, questa ragazza. Spacciatore arrestato dai carabinieri a Montesilvano. Aule piccole, siamo a Francavilla. E trasporto all'Uni, il comune affronta i primi nodi. Dopo le lamentelle delle mamme, il sopralluogo del sindaco alla scuola di infanzia a Lento. Servizio bus confermata all'istituto privato, no del comune. Così snaturiamo il servizio pubblico. A Moscufo, invece, la PEC sostituisce i messi comunali. Sempre a Francavilla. Sostegno alla natalità, buoni alle mamme. Entro il 4 novembre è possibile richiedere agevolazioni e servizi ai comuni dell'ambito. Fondi europei in basso, incontro a Francavilla sempre, comuni verso la gestione associata. Domani appenne tornano gli alpini del nono reggimento. 21 anni fa la consegna della cittadinanza onoraria, cerimonia in municipio, con una delegazione di militari. A manoppello, celebrata al volto santo la figura di padre Domenico. In basso, appenne pochi iscritti e debiti progressi, chiude la sezione del Partito Democratico a Chieti, Asl. Via Libera ha 598 assunzioni in tre anni. Ha approvato il piano disco verde della regione, l'operazione che consentirà di rinforzare il personale. Così si abbattono le liste di attesa. E questo è il piano delle assunzioni che vedete riassunto in questa tabella. In basso, promosso a pieni voti, il centro senologico confermata per la sesta volta consecutiva la certificazione europea per il percorso di cure in provincia. La sentenza PP negata all'operaio, la Sevel condannata, il Tribunale quantifica il danno in 5.000 euro, lesi gravemente la dignità, l'onore e la reputazione del dipendente. Il caso nella fabbrica di Atessa e in azienda è già polemica. Nuovi turni si parte dal 7 ottobre verso il passaggio da 15 a 17, ma la Wilm frena. Frena, serve un accordo. Nuova accusa al capo della banda, Lanciano, botte e minacce un altro processo per l'imputato della rapina ai martelli. L'incidente ad Orsonia, aereo precipita nel bosco, la procura indaga il pilota. In basso, Giovanotti sposa Andrea e Susanna Allinate, celebrato davanti a 90.000 persone. Il matrimonio in programma, il concertone annullato a Vasto. A Teramo, Islam radicale, terrorismo e reati fiscali tutti scarcerati. Il Tribunale dell'esame accoglie i ricorsi dei difensori. L'ex imam torna in libertà, l'imprenditore ai domiciliari. Italgas dona 140 computer alle scuole del cratere tenute a Civitella. La cerimonia di consegna dei personal computer ad Atri. Traffico nel caos per i nuovi asfalti. Circolazione bloccata a causa dei lavori in viale risorgimento. Problemi anche per le ambulanze e proteste dei cittadini. A centropagina, a Volio, Aule Sicure e a Scerne, il preside replica alle accuse mosse dalla Lega durante la visita di Fioretti. In basso, a Silvi, in Pineta, alberi secchi mai rimossi. Ignorato l'allarme, incendi lanciato da ecologisti e residenti. E invece a Pineta, ferri arrugginiti sul marciapiede. Sono un pericolo per i pedoni. All'Aquila, la restituzione tasse diventa un caso nazionale. Marsiglio e Biondi chiedono un intervento deciso del governo con l'Unione Europea per salvare imprese e abbassare il De Minimis. Campo Imperatore, Campo Felice e Ovindoli. Sky Pass dei Parchi, siglata l'intesa tra le tre stazioni sciistiche. Nove martiri, la prima volta di Biondi, sindaco presente alla cerimonia. In passato disertata, approfondire la storia per non ripetere gli errori. In basso, ricostruzione. Due milioni vanno a Pescara dopo un contenzioso legale decisiva alla perizia del Tribunale su un condominio danneggiato dal sisma. Celano, dopo l'atto intimidatorio, riapre il chiosco. Il coraggio di ripartire, le sorelle di Ovidio hanno inaugurato con il sindaco Santilli, Enzo Ciciotti e i carabinieri la rivendita di fiori data alle fiamme. Centropagina, donati gli organi di Alessandro Sabatini, Reni, Fegato e Cuore all'Aquila, Roma e Bologna. Ieri i funerali a Lucco dei Marsi con amici e parenti. In basso, Cucciolo di Orso Bruno ritrova la madre. Il Parco Nazionale è un caso a lieto fine unico, mai documentato in precedenza. Qui siamo allo sport, ci arriveremo poi più tardi. Torniamo sul messaggero, ripartiamo dall'Aquila. I lavori hanno deformato anche Palazzo Margherita. Se ha concluse le indagini sui sottoservizi nel faldone degli allarmi dei tecnici, la confidenza di un progettista, torre civica in piedi, un miracolo. Il caso Festival degli incontri, la guerra dei rendiconti e poi il protocollo d'intesa, demolizioni e restauri, la ricostruzione modello. Il sindaco Biondi, nove martiri, la storia non è un'arma da usare. E in basso, per il rugby che è in lutto, Sergio Tiboni ha passato la palla. Lo vediamo in foto, in questa foto. L'Aquila, Ratzinger, la rinuncia, ha preso le mosse davanti a Celestino, il cardinale Petrocchi, al presidente dei giornalisti Pallotta, il gesto del dono del palio. Andrebbe meglio esplorato, tasse da restituire, pronto un dossier, Conte deve sposare la causa aquilana. Si è insediato il nuovo manager ASL, testa, ottimizzare le prestazioni. In basso, donne in evoluzione, laboratori con Jacopo Fo, e poi arrampicata per disabili. La nazionale si allena in città. Siamo ad Avezzano, in città, fabbrica di fumo per gli arabi. La guardia di finanza scopre un casolare alle pendici del Salviano, dove si lavoravano tabacchi per Nargilea, che si sospetta siano illegali. Prodotto molto in voga tra i giovani, si può consumare decitamente, ma per la procura era venduto, evadendo il fisco. Il bel gesto, come abbiamo visto, donati gli organi del ragazzo di Luco De Marsi. A Francavilla investe un noto ristoratore avezzanese e fugge e viene ed è ricercato. Rifiuti abbandonati, trovati gli sporcaccioni. Si tratta di un ex opificio di Sulmona che ha smantellato il suo capannone pensando di aggirare norme e regole. Anche qui, a Pescassero, il cucciolo di orso ritrova la madre. A Chieti, l'ex presidente Allegrino fa causa a Confcommercio. Decreto ingiuntivo di oltre 32 mila euro. Sono le indennità non pagate per 11 mesi. A novembre intanto riprenderà il processo, ma riparte da capo, sentendo tutti i testimoni. Dall'altra parte, 30 euro per riavere fido dopo il soggiorno nel Canile e il Comune ha varato un disciplinare stabilendo tre gradi di priorità. E poi il seminario Lega Coop, premiare la qualità del lavoro, che vediamo qui. A Palazzo De Maio, il teatro di Scanno. E poi il Gambero Rosso, premia quattro locali in città. Ci sono il Vittorio, la Casina dei Tigli, il Templum e Veronese allo Scalo. Shell visita gli ospedali del Vastese. Il DG dell'Asle ha iniziato dalla postazione del 118 di Castiglione. Incontri con il personale e i pazienti e al vaglio tutte le criticità. Il direttore distrettuale Dugo, speriamo, nell'attuazione dei 20 posti per la RSA e altrettanti nella residenza protetta. E poi, sempre per la Sanità 2, il mammografo di Atessa, fermo per quattro mattonelle. In basso, per la cronaca, Lanciano, Rapina e tentato ricatto. A giudizio Martina la sbarra anche il capobanda della Rapina a danno dei coniugi Martelli. Scontro tra auto e camion, siamo a Vasto, grave una donna, l'anziana rimasta incastrata nelle lamiere, liberata dai vigili a Teramo. Professionale senza aule, la scuola come un hangar, i mille studenti dell'Alessandrini Marino costretti al doppio turno, problema trasporti. La provincia offre tre soluzioni, bocciate e frangioni, dobbiamo venirci incontro. La dirigente Stefania Nardini, il sovraffollamento pregiudica la didattica e la qualità dell'insegnamento. Si finge libero e inganna la fidanzata, condannato, milanese, denunciato da una teramana, aveva detto che voleva il matrimonio ma era già sposato con un bambino. In basso, PD provinciale e commissariato di Stefano, al posto di Minosse. Nuovo ospedale e PET, D'Ambrosio al posto di Digiosia e poi a Civitella, terremoto, consegnati 140 computer per gli alunni. Giulianova, condominio solidale, esperienza finita. Costantini, il sindaco di Giulianova, sappiamo che qualche inquilino lavora in nero e prende il reddito di cittadinanza, abbiamo disposto dei controlli. Gli occupanti avranno 700 euro dall'Unione dei Comuni, il sindaco, erano tre mesi, dovranno trovare un nuovo alloggio. Sempre a Giulianova, mezzo per disabili, grazie a 100 donatori. Il processo, corruzione in comune, i difensori contro Mastro Pietro solo, propaganda, chieste le prime assoluzioni. L'ex dirigente, la principale imputata, avrebbe favorito il marito. Siringhe, detriti e accampamenti a Martinsicuro, pista ciclabile e ponte. Nel degrado, traffico ad Albadriatica, arrivano due rotatorie sulla statale 16. Anche qui siamo arrivati quasi allo sport, però prima rimaniamo in provincia di Teramo con la città, perché lo spoil system travolge anche il core, come il presidente Filippo Lucci, decaduto con un anno e mezzo di anticipo per liberare una poltrona in regione, in quota Lega. 8 mila posti a rischio di lavoro tra i metalmeccanici della provincia e l'allarme dei sindacati. Ecco perché la ASL frena sul project financing e i documenti della Pizzarotti potrebbero dare vantaggio ai concorrenti. Chiesto un parere all'anticorruzione. E intanto per il concorso oggi, i primi due concorsi dell'ASL, al Palasca, attesi in migliaia. Aumentate le ore ai dipendenti part-time per far fronte alla carenza di personale. Dopo 15 anni il Comune ha raddoppiato il Monte Ore per 40 unità. Siamo al Comune di Teramo. PD commissariata alla segreteria Minosse. La nascita di Italia Viva accelera l'inevitabile al posto del sindaco di Cortino, nominato l'Aquilano di Stefano. Successone per la prima festa alla stazione. Grande affluenza, note di gusto, musica e buon cibo che hanno spinto residenti e curiosi a riversarsi nelle vie del quartiere. In provincia, donne in politica, c'è ancora tanto da fare. La consigliera di parità Monica Brandiferri analizza i numeri dei Comuni Teramani sulla rappresentanza. E poi a Campli, accordo raggiunto, il Comune incasterà 865 mila euro dalla Ruzzo Reti. Race for the Cure in 5000 corrono contro il cancro. Si è conclusa a Pescara domenica la tre giorni di sport, salute e benessere per la lotta ai tumori al seno. A Civitella ricostruire attraverso scuola e tecnologia la cerimonia di consegna di 140 computer donati da Italgas agli istituti dei Comuni colpiti dal sisma. E poi ripartiti i lavori alla scuola di Colleranesco, l'annuncio del sindaco Costantini in sopralluogo sul cantiere, edificio pronto per l'inizio del prossimo anno. A Roseto confermato lo spostamento del mercato, l'assessore Vannucci replica al Movimento 5 Stelle su sicurezza e traffico. È il lungomare il luogo meno idoneo. E poi demolito siamo a Silvi, il fortino della Seconda Guerra Mondiale. Ruspe in azione lungo la costa sud, uno dei manufatti simbolo delle estati silvarole. Siamo alla cultura, Adriatico Mare che unisce culture, il docufilm di Grilli sulle minoranze croato-albanesi proiettato a Voscopoia e Valona. Adesso andiamo allo sport, andiamo in casa Pescara e vediamo questa pagina doppia, eccola qua, la mettiamo a tutto schermo. Pescara in campo, Maniero e la mossa di Zauri contro il Tabù. Cittadella, l'attaccante al debutto dall'inizio al tombolato, l'ultimo colpo addirittura nel 2013. Stasera alle 21, allenatore bianco-azzurro, pensa a Balzano e Delgrosso, titolare in difesa. Cisco è squalificato dopo il rosso di sabato pomeriggio. Ventola che è l'ex, come Drudi ovviamente dall'altra parte, delfino nel cuore però se segno e esulto il terzino pescarese d'occhi in prestito al Cittadella sarà emozionante sfidare la squadra della mia città, questa è una gara da playoff. I bianco-azzurri sono forti, allora questa dovrebbe essere la formazione del Pescara. Ovviamente Fiorillo tra i pali, Balzano, Scognemiglio, Drudi e Masciangelo in difesa. Macin, Castanoss e Memuscei a centrocampo, Galano, Maniero e Di Grazia in attacco. Per quanto riguarda le scelte del Cittadella di Venturato, Paleari tra i pali, Ventola, Perticone, Adorni e Rizzo in difesa, Vita, Iori e Gargiolo a centrocampo e poi Panico alle spalle di Diao e De Marchi. Vedremo se poi saranno effettivamente queste le formazioni. Intanto per il giudice sportivo Ventura e Baldini saranno squalificati. Qui siamo già su un altro argomento di sport, però torniamo sulle colonne del messaggero. Pescara, sfatare il tabù. Cittadella, questa sera turno infrasettimanale del campionato, Zauri al tombolato, Castanoss confermato come regista. Maniero sarà al centro del tridente. Le parole proprio di Venturato. Serve una partita top per battere il Delfino. Cittadella che viene definito la bestia nera, come potete vedere. In basso l'intervista Marco Sanzovini, il sindaco. Io so bene come si vince. Sanzovini ricorda il suo gol nell'anno di Zeman. 500 tifosi ci accolsero al ritorno dopo il successo. Andiamo in Serie C, dove ci sarà anche qui il turno infrasettimanale di campionato. Il Teramo fa turnover per il riscatto in casa. Domani c'è la Viterbese da battere al Bonolis dopo il mezzo passo falso con il Rende. L'unico sicuro della maglia da titolare è Bombaggi. Decisi gli allenamenti a porte chiuse gli avversari. Lopez è alla guida di una squadra oramai a Mazzagrandi. Dopo aver battuto domenica anche il Catanzaro. In Serie D è un Pineto che deve cambiare subito marcia. Era accreditata tra le favorite, ma solo 5 punti in 5 partite. E poi Vastese senza mordente e anche Amelia si arrabbia. Gli errori ci possono stare, ma ci siamo resi troppo presto. Bilancio risicato di punti. Ancora più risicato quello della Vezzano, che è ultimo per i Marsicani. Anche tanta sfortuna. E invece, magic moment del notaresco Mr. Vagnone. Ho rivisto quello spirito sanguigno che volevo decisivo l'innesto di Ginestra, portiere esperto, che dà garanzie. Andiamo, vediamo ancora altre notizie di Serie D. Giulianova, le parole del presidente Bartolini. Mi è piaciuto. Diamutene, che è stato l'innesto forse più clamoroso nella zona di difesa dei giallorossi. Per il basket, Roseto vince dopo 18 anni il suo trofeo, il trofeo Lido delle Rose. Pieric fondamentale nella semifinale con la sua esperienza. Invece in basso torniamo sul calcio. Andiamo a Chieti. Il DG Masciangelo, bravo Chieti, cresciuti in difesa. Per il volley, si eco venerdì il test match più atteso con la lube stellare. Torniamo sul centro per vedere questa notizia che riguarda il Teramo. Il DS Federico con la vita erbese voglio un Teramo arrabbiato. Ma soprattutto questa notizia. Perché Paris si dice pronto a riprendere l'Avezzano. L'ex patron vuole tornare al club, ma il presidente D'Alessandro chiude le porte. Fase di stallo con la cordata laziale. Per il ciclismo junior, Masciarelli quarto in Gran Bretagna. Complimenti al giovane Lorenzo Masciarelli. In basso, Miciche. Lanciano è la strada giusta. Il bomber subito protagonista. Domani al biondi c'è l'Angizia Luco. L'Aquila non vola. Invece già meno 5 dalla vetta. Il rosso-blu potrebbe tornare sul mercato per prendere un difensore. La squadra di Cappellacci è già costretta ad inseguire. Andiamo adesso sullo sport, sul quotidiano La Città. Il pareggio di Vibo va dimenticato. Siamo in casa Teramo. Domani alle 18 arriva la Viterbeser. Cancellare il risultato negativo. Rientra Cianci, ma va modificato l'atteggiamento. E poi una notizia che riguarda un ex Teramo. Vivarini verso Bari e lui l'erede di Cornacchini. Il tecnico tratta la risoluzione con l'Ascoli. Prima di poter firmare l'accordo con i Galletti pugliesi. Dall'altra parte nel girone F2 pareggio un successo. Notaresco unica abruzzese a vincere nell'ultimo turno. E domenica c'è la trasferta contro la capolista recanatese. In basso il professor Claudio Mazzaufo, protagonista dei mondiali di Doha. Dal 27 settembre impegno in Catara come tecnico responsabile della gestione dei settori salti, lanci e prove multiple. Bene, questa era l'ultima notizia per questa mattina. Io vi ricordo gli appuntamenti, che sono tanti, alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale, le altre alle 19 e le 23. Poi alle 20 e 30 questa sera non perdete Diretta Stadio con Andrea Costantini in studio, i suoi ospiti e Paolo Renzetti dal tombolato di Cittadella per seguire insieme Cittadella Pescara, il pre-gara, la partita e poi le interviste come sempre in diretta sperando che sia una buona serata per la formazione bianca-azzurra di Luciano Zauri. Mattino 6 invece torna come di consueto domani mattina alle ore 8, sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre. Buona giornata. Grazie a tutti.